Federica Lachina è la studentessa dell'Istituto Superiore Mottura di Caltanissetta che il 15 maggio prossimo andrà a Milano a partecipare alle finali nazionali dei giochi matematici nell'Università Bocconi. È una studentessa del quinto anno, frequenta l'indirizzo liceo scientifico Scienze Applicate ed ha superato la semifinale del 26 marzo scorso, classificandosi al primo posto della categoria L2, riservata agli studenti del quinto anno delle scuole superiori e del primo biennio dell'Università. Logica, intuizione e fantasia, buona dimistichezza con la matematica, questo è il necessario per affrontare le prove oltre ad una buona dose di duttilità di pensiero e creatività. Federica è appassionata della matematica e di tutte le materie scientifiche e ha raccontato che non si tratta di prove semplici ma si ritiene soddisfatta perché non si aspettava il primo posto, un primo posto che arriva dopo ben cinque anni di partecipazione ai test. La risoluzione di questi problemi spiega e anche di aiuto per la preparazione ai test universitari. Spiega ulteriormente Tiziana Sardo, la docente di matematica del Mottura della classe di Federica, che la partecipazione a questi giochi è importante e a volte fa scoprire una passione ed una predisposizione dei ragazzi per la matematica e la logica. Anche Alice Curatolo, la docente di matematica referente per il Mottura dei giochi matematici, sottolinea che il Dipartimento di Matematica del Mottura presenta ogni anno il progetto giochi matematici per la partecipazione degli studenti, sia nelle gare organizzate dall'Università Bocconi di Milano che per i giochi matematici del Mediterraneo perché pensano che attraverso il gioco si possa favorire l'interesse verso la matematica sviluppando logica e che tanto serve per i test d'ingresso delle varie facoltà universitarie. I complimenti alla studentessa e alle docenti arrivano anche dalla preside dell'Istituto Sebastiano Mottura, Laura Zurli. Così dopo la finale nazionale dei giochi della Bocconi si formerà la squadra che rappresenterà l'Italia alla finale internazionale di Lausanne in Svizzera prevista a fine agosto. Non ci resta che augurarle un grande in bocca al lupo.